Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati. Iniziamo insieme la giornata come di consueto, tutti i giorni qui puntualmente alle 7.30 in diretta per sfogliare i giornali, vedere che cosa troveremo poi in edicola, all'interno dei fascicoli e delle pagine locali, naturalmente il resto del Calino e Corriere Adriatico, sempre qui sul nostro touchscreen. Iniziamo insieme questo primo appuntamento con l'informazione. Un saluto carissimo anche a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming e anche sulle nostre pagine social, YouTube e Facebook. Tantissimi, vi ringraziamo perché tutte le mattine ci fate grande compagnia, soprattutto anche a quelli che ci seguono da fuori, dall'estero, da Praga, dalla Germania e anche dagli Stati Uniti, qualcuno si è collegato in questi giorni, quindi insomma grazie per essere così presenti. Voi il caffè, noi ci mettiamo i giornali come sempre, però guardiamo il Santo del Giorno che ci propone la regia questa mattina, sabato 10 febbraio è Santa Scolastica, Vergine, il sole è sorto alle 7.13 e tramonta alle 17.31. Ancora giornate corte, però si avvicina sempre di più la primavera e quindi le giornate si incominciano ad allungare. Vediamo invece sul fronte meteo che cosa ci propone la protezione civile per questo fine settimana e inizio della prossima. Vedete per oggi sulla cartina c'è una situazione abbastanza variegata, c'è un po' di tutto, c'è pioggia, c'è ghiaccio, c'è nebbia, c'è nuvola, c'è il sole, insomma sicuramente con la simbologia hanno abbondato. Irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata, ampie schiarite però nel pomeriggio nelle zone collinarie e costiere, mentre nelle zone a ridosso del crinale il cielo si manterrà irregolarmente nuvoloso, appunto lo vedete proprio sui rilievi c'è pioggia e nuvolosità intensa. Tarda mattinata, possibile qualche breve locale rovescio sulle precipitazioni, anche appunto a ridosso dei rilievi. Il limite delle nevicate è attorno ai 700 metri, le temperature sono in diminuzione, in particolare nei valori massimi, quindi farà un pochettino un po' più freddo, diciamo così. Le previsioni per domenica, domenica sapete per Fano è una giornata cruciale, c'è il corso mascherato, c'è l'ultima domenica del carnevale fanese, quindi l'importante è che tutto vada per il meglio e quindi il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata, però insomma nel pomeriggio tornerà, come vedete, cielo prevalentemente sereno, nessuna pioggia all'orizzonte, le temperature saranno anche in aumento nei valori minimi e stazionari, invece nei valori massimi, quindi nessun fenomeno particolare. Vediamo la giornata, la prima giornata della settimana entrante, quindi ritorniamo a situazioni un po' di instabilità, inizialmente poco nuvoloso il cielo, aumento della copertura nella tarda mattinata, però cielo nuvoloso nella seconda parte della giornata, deboli fenomeni piovaschi nel settore centro-settentrionale e in estensione anche nel resto della giornata e sul resto della regione. Le temperature saranno in diminuzione, quindi ancora più freddo, vedete, compare anche la simbologia del ghiaccio, quindi estese gelate durante la notte e nelle prime ore della mattinata, vedete, quindi insomma prestate attenzione appunto se dovete spostarvi all'interno, soprattutto nelle prime ore della giornata, attenzione alle gelate, il gelo, quel velo di gelo è veramente un pericolo. Giornali pronti, eccoli qua, partiamo, apriamo da subito, vi porto nelle pagine del Corriere Adriatico, nella pagina iniziale, due foto notizie collegate tra loro, vedete appunto la povera Pamela, c'era un branco contro Pamela e poi il corteo in una città blindata, una manifestazione antifascista autorizzata dalla prefettura in quel di Macerata, quindi una situazione abbastanza particolare da gestire da parte delle forze dell'ordine. In piazza andiamo a Pesaro, piazza senza auto, i tassisti sono però sulle barricate, c'è Sport, il Fano a Ravenna per il più classico dei match salvezza, nuove proposte con Mudimbi, chiude il terzo, chiude terzo a Sanremo. Vediamo le pagine interne, ve le faccio vedere appaiate perché sono appunto con una certa relazione, il corteo, eccolo qua, dei 10.000 nella città sotto assedio, vedete qui tutto il percorso che farà il corteo, costellato appunto di segni che contraddistinguono i varchi e le vie d'accesso naturalmente alla circolazione e poi serrande abbassate e il giallo delle mazze, spranghe di ferro trovate dai netturbini vicino alle mura e poi arrestato un giovane di Forza Nuova e tra i candidati alla Camera. Queste le due pagine dedicate a Macerata, ma anche questa ve la faccio vedere, sempre dalle marche in primo piano, c'è la ricostruzione della triste vicenda di Pamela con una cronologia abbastanza particolareggiata in tutti i suoi dettagli e passaggi e appunto il lancio dalla prima pagina è questo, l'ipotesi del branco per la fine di Pamela. Dopo le analisi di tabulati e le celle telefoniche, i carabinieri sentono nuovi testimoni. Si parla di cinque nigeriani, uno è stato preso a Milano, però non ci sono i fermi. Infatti come vi abbiamo letto anche in diretta ieri nel telegiornale con le ultime agenzie c'era proprio questa intercettazione da parte dei carabinieri di questo sospettato alla stazione di Milano che è stato poi portato in quel di Macerata, dai colleghi di Macerata. Andiamo ad aprire le pagine di Fano del Corriere Adriatico, si parla di welfare come accudire anziani e malati accanto agli enti familiari in campo, ciclo di incontri dell'ambito sociale 6 per illustrare il nuovo indirizzo appunto del welfare e vedete qui la presentazione del programma con l'assessore Marina Barniesi. Andiamo ancora nelle pagine di Fano, gara di riciclaggio per i palchi, si parla naturalmente di carnevale, si balla in maschera ai Veglioni, oggi la festa al centro commerciale Sant'Orso con la sfilata tra 250 alunni della Montesi, nuove misure che si vanno sempre più affinando per la sicurezza, nuove misure per il pubblico in via Bruno e viale Buozzi, gli accorgimenti decisi per l'ultima sfilata dei carri, naturalmente come era immaginabile che sia, insomma man mano che si va avanti nella manifestazione si prende maggiormente il tiro. Tanta politica nelle pagine dei quotidiani, sia nelle pagine nazionali che in quelle locali, come è normale immaginare, una svolta nella gestione del territorio, l'impegno di Cattòi, candidato con i 5 Stelle, bonifica, energie rinnovabili e posti di lavoro, una svolta nella gestione del territorio. Oggi Civati è a Fano che presenta i candidati di Liberi ed Uguali e Baldelli invece snocciola le priorità per la sicurezza e la sanità, la sanità naturalmente pubblica. Eccola qua, anche questa è una notizia che era presente nel lancio di apertura, sapete che il sindaco Ricci sta cercando di coronare un suo antico sogno, ovvero sia quello di liberare la piazza dalle auto, però insomma questo suo sogno trova le barricate, questa sua avventura trova le barricate dei tassisti che naturalmente non vogliono abbandonare la piazza perché per loro è una questione lavorativa. I tassisti sulle barricate per la piazza senza auto, la categoria, dice l'amministrazione comunale, non ci ha nemmeno chiamato per un confronto. Martedì la delibera andrà in giunta. E quindi sfere nella parte centrale e un corridoio per gli autorizzati. Questo è il piano e vedete qui appunto una piazza, questo è il passaggio a ridosso dell'ufficio postale, vedete qui tra le macchine di servizio e i tassisti sono tutte parcheggiate proprio lì. E qui insomma ci sono tutte le modalità di questo piano. Ancora cronaca, cronaca nelle pagine di Pesaro, colpo bis della banda delle ceramiche, due furti a segno in 48 ore ai danni del negozio d'antiquario dall'oro, lungo corso 11 settembre, non posso crederci, non mi era mai successo, sospetto siano raid su commissione, come spesso avviene per le opere d'arte. Il caso Cecconi, sono tre i misteri appunto del caso Cecconi all'attacco Morani e Gostoli, le verità nel servizio delle Iene verso appunto il voto. Questi sono i lanci di agenzia di Battista a Urbino, concessa la piazza per il suo discorso. Valle Foglia, vedete un raggente Palmiro Ucchielli nel tondo, è ufficiale, è una comunità over 15.000, l'Istat certifica i numeri della popolazione e Ucchielli appunto dice siamo la terza città della provincia e quindi insomma sicuramente un bel territorio e tanta gente da dover gestire, un territorio ampio. Valle del Cesano, nella pagina che la riguarda ci parla del piano delle opere pubbliche, due milioni di finanziamenti, contributi a fondo perduto dal governo per il recupero del Palazzo dei Malatesta e quindi insomma sicuramente una bella pagina per tutti gli abitanti. Rimaniamo a Pergola dove si potenziano i servizi di chirurgia e gli ambulatori, l'Asur comunica l'implementazione di nuove attività. Ma il sindaco Baldelli reagisce a questa notizia, è la favola di sempre, questo è il suo commento, Ceriscioli non ha mantenuto la promessa di un concorso medico e infatti non c'è più anestesia H24. Da Urbino, la pagina che riguarda Urbino, il Corriere Adriatico, ci parla di due secoli di autonomia, la città di Bramante celebra il suo municipio, presentato il nuovo gonfalone, pregniati 88 consigliere, sente sindaci sul palco, Feduzzi, cancellieri, topi ed il prefetto. Un momento di pubblica amministrazione, di pubblico riconoscimento. Andiamo anche a Senigallia con il Corriere Adriatico, c'è un incidente ieri pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Passoripe per un anto in fiamme. E poi si parla di edilizia, casa mai consegnata in via Rodi, l'impresa restituisca l'anticipo. Oltre ai 70.000 euro la ditta dovrà risarcire il danno, ma è braccio di ferro naturalmente sul pagamento. Vedete qui lo scheletro dell'incompiuta, come si dice appunto, l'incompiuta di via Rodi, che è finita in tribunale. Ancora dalla pagina di Senigallia, si parla di mini esercito degli invisibili, i residenti ma sono fantasmi, si parla anche qui di solidarietà e di welfare. Sono 44, hanno diritti, il domicilio è la casa comunale, si muovono come ombre per l'anagrafe, però esistono e quindi il mini esercito delle persone invisibili. E poi appunto solidarietà, welfare, ecco la casa del pane per chi ne ha bisogno. È stata aperta in via Cavallotti dal sindaco che vedete qui al taglio del nastro. Adesso cambiamo naturalmente la testata, abbiamo esaurito le pagine del Corriere Adriatico, adesso prendiamo in considerazione il resto del Carlino. Anche qui fotonotizia, l'apriamo subito al centro, la mia casa all'asta. Ormai è un dramma sociale, però si parla di un altro tipo di edilizia, le case che vanno all'asta. L'anno scorso solo a Pesore e a Fano, ben 1149 immobili in procinto di essere venduti. 374, quelli già passati di mano, 262, quelli pignorati. Unica salvezza per l'esdebitazione, per naturalmente limitare i danni. Nell'interno poi c'è l'articolo che riguarda questo aspetto e anche qui si fa un focus sul caso Cecconi. Di Maio dice su Cecconi, mi ha deluso, per lui è giusta l'espulsione. Deflagra lo scandalo del candidato a Pesarese 5 Stelle. Il leader Grillino dice, ha fatto una cosa grave, però il suo passo indietro non basta. I militanti però lo sostengono su Facebook e se vince all'uniminale sarà intoccabile. E poi vediamo anche le pagine all'interno con la cronaca, un fatto che tutti ricorderete, appunto gli stupri di Rimini. Parlano i genitori, dicono del condannato, il nostro figlio rovinato dagli amici cattivi. Parlano i genitori del nigeriano, condannato a nove anni per gli stupri di Rimini. Lo vedete qui, Guerlini Butungu, il più grande del branco, unico maggiorenne, condannato già nell'autunno scorso a 16 anni. E poi si parla della sentenza che riguarda Pazzaglia, che è in carcere da dieci giorni. La fine pena per lui è nel 2024. Ancora nelle pagine del resto del Carlino, come vi dicevo, il lancio in testa di pagina sulla questione sul caso Cecconi. Sarà il fantasma di Montecitorio. Di Maio dice, non mi basta il passo indietro. Abbiamo chiesto anche l'espulsione. Un caso grave per decine di migliaia di euro. Il leader, braccato dalle Iene, prende le distanze dal fedelissimo e dal senatore Martelli. E quindi vedremo come andrà questa vicenda. Rinforzi, si parla di sicurezza. Rinforzi e telecamere, però così non basta. I Guerlini e la Lega criticano le scelte della Giunta. Cosa manca? Alessandrini dice, sono pochi gli agenti e le immagini servono solo a reato compiuto. Insomma, però sicuramente danno una buona mano a chi deve indagare, per lo meno a individuare e a catturare i ladri, come alle volte e spesso è successo. Tre migranti nigeriani sorpresi nel parchetto di via Rossini con della Mariana. Controlli di polizia serrati che continuano sulla lotta allo spaccio di stupefacenti. Andiamo a Urbino con il resto del Carlino. Appuntamento con il lavoro. Si parla di lavoro e di job, di siti e posti dove si può intercettare la domanda e l'offerta. Il job a Urbino elimina le file. E quindi insomma, Raya dice, grande affluenza. Chi vuole prenota il colloquio. E quindi insomma, qual è il metodo per eliminare le file al job. Centro storico, si parla anche qui di carnevale, oggi sfilata. E quindi grande sfilata per il corso del centro storico di Urbino. Alle 15.15 è l'appuntamento per gli amanti del carnevale. Ma di carnevale si parla anche nelle pagine di Fano, del resto del Carlino. Sfilata, più vie di fuga all'esterno. La questura accetta le proposte degli organizzatori. modifiche appunto lungo il percorso per migliorare le vie di uscita fuori dal percorso. Anche il ponte del Canale Albani che per avere sfogo, feste e balle nelle città e nei dintorni. E poi un tuffo nel 1907. Arriva la locomotiva a vapore. Arriva da Ravenna. Farà scalo a Pesaro. E poi dritti verso il carnevale di Fano. E questo è il programma, o parte del programma per la giornata di domani. L'ultima pagina che vi faccio vedere parla di un altro aspetto della città fanese. Quanto mai caro un po' a tutti. Il teatro romano ora spunta l'ipoteca. Rischiano di allungarsi in questo modo. Però i tempi per l'acquisto. C'è un vecchio contenzioso ancora non risolto dalla proprietà. Vedremo appunto anche qui c'è il welfare, curare la malattia. La guarigione comincia dalla persona. L'ambito sociale 6 nella conferenza ieri. E appunto che ha esposto le nuove linee appunto indicate in questo progetto per la persona. E quindi questa è l'ultima pagina, l'ultima notizia che vi faccio, che vi ho fatto vedere. Per quanto riguarda la seana stampa di questa mattina. Tantissime appunto le persone che sono collegate con noi. Adesso non le riesco a salutare tutte. Però sapete che noi vi abbiamo tutti nel cuore. E grazie per essere così presenti e così fedeli. Naturalmente c'è anche il numero che avete visto in sovraimpressione. Dove potete, eccolo qua. Dove grazie a Riccardo Sora che è il regista che l'ha mandato subito. Il 338 496 250 per inviarci le segnalazioni e tutto quello che accade attorno a voi. Naturalmente voi siete i nostri occhi sulla città. E quindi segnalateci tutto quello che ritenete opportuno. Io mi fermo qui. Questa ultima rassegna stampa della settimana termina. Occhio ai giornali. Torna lunedì mattina alle 7.30 puntualmente. Buon fine settimana a tutti voi. Buon carnevale, buon sfilate e buona maschera se ve la mettete. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.